Il pendolo di Foucault è stato realizzato in numerosi posti in diverse università nelle nazioni e nel mondo. È uno degli strumenti usati per convincerci che la Terra ruota sotto di noi e mostra che quando un oggetto è in movimento è indipendente dalla Terra e questo dimostrerebbe che la Terra si muove sotto i nostri piedi. I pendoli si trovano nelle piazze pubbliche, nelle librerie e nelle università e dimostrano come fatto che gli oggetti si muovono indipendentemente dalla Terra e si possono vedere quando la Terra si muove e gli oggetti rimangono nella loro traiettoria. Questo viene accennato nel film Shooter, se l'avete visto. Spiegano come è difficile calcolare la traiettoria di un target lontano perché dovete regolare il bersaglio in modo da compensare la rotazione della Terra. Ci sono illustrazioni che usano per spiegare questo e ve lo raccontano e vedete la linea della vostra vista. Voi dovete compensare questa traiettoria ma è abbastanza difficile perché il bersaglio probabilmente si muove rispetto alla traiettoria del proiettile. Questa è un'altra illustrazione dove quello che sembra essere uno sparo di eritto finisce per essere mancato e il vostro proiettile sembra una palla da golf che scivola perché la Terra gira sotto di esso. Non voglio parlare di questo signore, il salto del Red Bull, dove in qualche modo la Terra non ruota sotto di lui, ma voglio parlare di qualche cosa che conosco. Quando ero militare in un campo italiano nell'unità di sorveglianza della ricognizione a lunga distanza, frequentai diverse scuole ed ho fatto il mio dovere sparando tantissimi colpi con diverse armi. Sono stato in diverse scuole imparando l'acquisizione dei bersagli e anche dopo il mio servizio militare ho continuato ad essere un appassionato d'armi. Ricaricavo le mie munizioni ed avevo un'ottima conoscenza della balistica interna. Inoltre, quando mi trovavo sul campo, ero in grado di usare le mie radici per calcolare le distanze e le compensazioni. Compensavo il vento molto molto bene, sapevo usare le radici per determinare le distanze ed usarle per colpire il bersaglio anche con forte vento. A 500 yard riuscivo a colpire il bersaglio in modo consistente come questo, ma voglio fare un'esercitazione per ovviare al problema di quello che vi insegnano sull'effetto Coriolis. Ho preso Singapore perché si trova sull'equatore. Sappiamo che all'equatore la velocità è di circa mille miglia per ora. Esistono altre città sull'equatore, ma questa è buona perché si trova anche sull'acqua. Un tempo c'era un faro a Singapore che fungeva da ottimo bersaglio stazionario. Si chiamava il faro della marina. A Singapore si trovava ad un grado dall'equatore. Andiamo a vedere chi ha sparato questo bersaglio. Vi presento Mr. New Jersey. Questa è una delle più grandi navi da guerra che sia mai stata costruita. Ha cannoni da 16 pollici che riescono a raggiungere 25 miglia. Ho visto delle specifiche che dicono che possono raggiungere 28 miglia. Questo dipende dalle munizioni, ma qui da una rapida prova dove scrivono che il proiettile viaggia da almeno 2.700 piedi al secondo e qui affermano 24 miglia. Ho visto altre descrizioni. Il peso di questo proiettile è una tonnellata. Questa è un'immagine di una canna smantellata con un finto proiettile per darvi un'idea della grandezza di quest'arma. E qui è quello che ipoteticamente voglio creare in questo scenario per colpire il faro. Ecco uno dei proiettili in magazzino dentro il tubo per alimentare l'arma. Una volta su confezionano centinaia di pound di polvere dietro questo proiettile. È una delle armi più impressionanti che si possono mai vedere sparare. Quando viene innescato l'esplosione è talmente enorme che suona come la fine del mondo. Se vedete lo sparo dall'alto si può notare che la decompressione delle canne crea uno shock d'onda sull'acqua della grandezza di un campo di calcio. Quindi il nostro bersaglio è il faro lontano 25 miglia. Spariamo e boom! E il faro cade a terra. Giusto? Bene. Non esattamente. Ci sono un paio di problemini qui. Usiamo la matematica. Un bersaglio a 25 miglia dalla New Jersey ha un tempo di volo di 90 secondi. Mirate a 90 gradi dalla nave, diritto sull'equatore, per colpire quel faro. E il proiettile impiega 90 secondi per arrivare là. Il problema è che dopo 90 secondi all'equatore la terra si è mossa di 25 miglia. Quindi servono 90 secondi al proiettile per arrivare dalla nave al faro. Ma in questi 90 secondi il faro si muove di 25 miglia. Quindi andrete a sbagliare da 25 miglia. Questi sono bei numeri su cui lavorare perché possiamo impostare un triangolo. E dovrete usare un po' di matematica per fare bene. In questo momento posso direzionarmi sul bersaglio e compensare il movimento della terra che ruota sotto di me come dicono che dovrebbe essere. Quanto dista? A al quadrato più B al quadrato mi dà l'ipotenusa che dobbiamo usare per puntare il bersaglio. Mi dà un angolo di 45 gradi e scopro che non posso colpire quel bersaglio perché finisce che ho un'ipotenusa di 33 miglia. Allora dovete sparare al faro. La nave ed il faro si muovono anche se cercate di puntare il bersaglio ma cadrà 8 miglia prima perché la portata dell'arma è di sole 25 miglia. Pensateci gente. Non credo che questa nave abbia sbagliato il bersaglio. Non penso che fosse fuori dalle 25 miglia quando ha sparato al bersaglio che si trovava a 25 miglia. Dovete usare il vostro cervello e pensate ad alcune di queste cose per porre rimedio alle cose piene di non senso. Vi mostrano il pendolo di Foucault dicendo che tutto si muove indipendentemente sotto ad un oggetto ma pretendono che questo tipo flutto in giro per ore attorno alla terra poi salta nello stesso punto da dove è decollato. Dovete analizzare e pensare da soli e poi ditemi come questo ha un senso per voi perché per me ha molto senso. Vi auguro una buona giornata. Grazie.